La partita con la Juventus Neck Gen è un momento importante, come sale l'adrenalina? Sì, sale però bisogna considerarla la stregua delle altre partite, non bisogna caricarla più di tanto, anche per chi è una partita di playoff e la partita di playoff sono sempre gioie farle, non è una partita di playoff in cui veramente c'è la tensione, i terrori di retrocedere, la partita di playoff è sempre una cosa bella, una cosa da fare nella più assoluta tranquillità, ciò non vuol dire che la più assoluta tranquillità si vada per perdere oppure va bene così, anzi, io ho detto ai ragazzi che bisogna andare tutti convinti di poterla vincere, che lo possiamo fare perché anche se nelle due gare di Ampilato l'abbiamo persa entrambe, però posso dire con sicurezza che non meritavamo in nessun'editura di perdere, che possiamo andare là e vincerla e faremo di tutto per farlo. Ministro, come si prepara anche da un punto di vista psicologico, è una partita in cui l'Arezzo può solo e deve solo vincere, questo potrebbe influire anche sulla gestione della gara, delle situazioni di partita? Il discorso è questo, la difficoltà maggiore è questa, ecco noi è una partita normale, c'è supplementari per esempio, qui non c'è nemmeno supplementari, la devi vincere nelle 90, e è chiaro, parti, credo cosa fondamentale sia non andare sotto, perché con un giocatore di quella qualità tecnica lì, ma è tutto, è dura, anche se la partita qui da l'Arezzo sembrerebbe dimostrare il contrario, però l'importante è non andare sotto. Poi nel secondo tempo, se hai in equilibrio, la gara e gli svolti psicologici potrebbero rivoltarsi a favore nostro e contro la rivoluzione, perché a quel punto dice, ci basta un gol, se lo prendiamo, capisci? L'importante credo sia di tenere la partita il più in equilibrio possibile. Poi è chiara la distanza, viene fuori un'altra gara. Giocare in un stadio semideserto, può essere un vantaggio o uno svantaggio per l'Arezzo? Per noi abbiamo un seguito, ma abbiamo sicuramente uno svantaggio, perché se i nostri tifosi venivano nella peggiore riposizione, in tutti i posti dove siamo stati, eravamo vari nella peggiore riposizione, che per noi è assolutamente uno svantaggio. Se ripensa la partita andata, non ci voglio pensare, perché la partita di ritorno qui non c'erano loro, però insomma un po' di gente c'era la partita andata, non c'era nessuno di loro, nemmeno di noi e nemmeno di loro. La partita andata era una cosa, si sentiva, che so io, la semplice frase di un tribuna oppure dalla panchina proprio, non era nemmeno un amico, ancora meno mi sembrava la partita andata, però domani nel clove credo che un po' di pubblico ci sia, è chiaro a noi ci manca la parte più importante, però non credo che venga la situazione della partita di andata, in cui non c'era nessuno, domani un po' di gente ci saranno, non credo domani di sentir niti delle frasi delle persone in tribuna che si diano tra di loro. Ministro, è una partita da approcciare subito in maniera garibaldina per andare a fare gol o ci servirà una gestione tattica un pochino più oculata, diciamo così? L'ho detto prima, ci vuole una gestione tattica e oculata, una gestione tattica e oculata perché ipotesi andassero in vantaggio a te, loro è chiaro a quel punto, a quel punto non hanno niente da perdere e metterlo tutto quello che hanno, invece io vorrei andare avanti che nel loro animo, nella loro psicologia, centri tarlo, abbiamo tutto da perdere, la differenza fondamentale. Peserà più l'assenza di pattarello o quella di guerra, in una partita così, considerando il peso specifico che hanno avuto in stagione? Sicuramente, è chiaro, sono due, uno in una squadra e uno in un'altra, sono due che hanno fatto diversi gol, importanti tutti e due, ma mettiamo nella stessa importanza. Magari forse loro hanno anche il cambio, cioè se giocano, e penso proprio che gioino, non c'è Steguluf, che qui a Arezzo non c'erano entrambi, sono tutti e due che hanno già esordito in Serie A, di noi dell'Arezzo non mi sembra che ci sono tanti che abbiano esordito in Serie A a sostituire pattarello. Qualche fioretto l'avete fatto nel caso di passaggio del turno? No, io perlomeno no, se poi qualche ragazzo l'ha fatto, pubblicamente no, diciamo che così, a livello di squadra no.